Soppa 3, avanti l'1, avanti l'1, fermo 3, fermo 1, avanti l'2, di un metro, avanti l'2, sopa 2, attenzione, via! Partita la seconda batteria, sembra che sia in testa l'uranio, subito da Sistri e Zaule, si adatta, i volti, vai, i volti, allora, siamo da sinistra, come si presenta l'attività, vabbè, secondo, secondo i volti, il terzo sì, vediamo chi fa il primo giro di boa, fino ai testi, ti raccomando! Grazie a tutti! Grazie. 1 e 2, verso il Sestri. Allora, Urania, Rione Vernazzola, Rione Voltri e Rione Sestri. Questi sono i giro di BOA che hanno effettuato. Ok, i giro di BOA sono andati bene, il controllo è stato effettuato. Vediamo adesso al secondo giro di BOA come si presenta. Benissimo, benissimo il Voltri. Adesso vediamo quanti sono stati di Rione Vernazzola. E' una bella battaglia tra Rione Vernazzola e Rione Voltri per il primo posto. E in certa posizione Rione Sestri. In questo momento sembra che sia cercando di affrontare meglio un percorso, ma comunque il primo, il secondo tra Urania e Rione Voltri. I ragazzi del Bernazzola, il terza, il secondo, sono ieri Voltri. Iscriviti a진�